Ciao a tutti e buon lunedì! Eccoci con le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore che dopo una pausa di due settimane a causa dei mondiali, oggi 12 dicembre, torna a farci compagnia. E dunque scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo questa settimana. Adelaide ci è rimasta molto male quando ha scoperto che Umberto si è fidanzato ufficialmente con Flora. Marco, suo nipote, cerca di aiutarla affinché reagisca e come lui anche Marcello. Il socio di Salvatore, per la Contessina di Sant'Erasmo, pensa di organizzare al circolo una cena in suo onore. Gloria ha accettato di mettersi in affare con Ezio, ma inizia a pentirsene, perché a causa sua si sono creati nuovi dissapori con Veronica. Gloria, per cercare di migliorare la situazione, cerca un chiarimento con Veronica, ma purtroppo tra le due non avviene nulla di pacifico. Subito dopo è Ezio a scontrarsi con la sua compagna, perché non ha gradito il suo scontro con Gloria. Intanto la capocommesse confida ad Alfredo che sta pensando di rompere l'accordo con Ezio. Qualcosa però le fa cambiare idea. Ci prepariamo ad un grande addio. Siamo infatti per salutare due personaggi, Stefania e Marco. I due, dopo mille dubbi e tentennamenti, partiti specialmente dalla figlia di Gloria, decidono di partire e di trasferirsi in America, dove al Sant'Erasmo aspetta una nuova avventura a Washington. Stefania e Marco vengono salutati dai loro amici e colleghi con una bellissima e commovente festa alla galleria. Vittorio, invece, riceve una telefonata. È Marta che gli chiede di raggiungerla il prima possibile a Parigi. Conti va e torna. Subito dopo questo viaggio, ha un incontro con Matilde, durante il quale i due si aggiornano proprio sulle loro situazioni sentimentali.